Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le Idee. Quest'oggi parleremo del bicameralismo. Negli ultimi tempi in Italia si parla molto di riformare il Senato, una delle due camere di cui è composto il nostro Parlamento. Lo stesso governo Renzi ha avanzato una proposta in tal senso. Ma perché esistono due camere e che poteri hanno attualmente? Sono veramente necessarie entrambe? Capiamolo insieme. Fin dalla loro nascita i Parlamenti hanno avuto più camere, ossia più organi assembleari distinti in una camera alta e in una camera bassa. Il primo Parlamento al mondo che ebbe poteri reali fu quello inglese, che era ed è tutt'oggi costituito da due camere. Una è la Camera dei Lord, che rappresenta la classe nobiliare ed è nominata dal sovrano. L'altra è la Camera dei Comuni, che era espressione della borghesia, ma che a partire da un certo momento iniziò ad essere eletta dal popolo. Con l'avvento della democrazia e del sistema parlamentare negli altri paesi, il senso delle due camere è cambiato. La camera bassa ha cominciato ad essere espressione della nazione nella sua interezza e del principio della sovranità popolare. La Camera Alta, invece, ha iniziato a rispondere al principio di autonomia degli enti locali o degli stati federati. Anche in Italia è così, seppure in modo attenuato. L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che la nostra Camera Alta, il Senato della Repubblica, è eletto a base regionale, mentre quella bassa, la Camera dei Deputati, è eletta a suffragio universale e diretto. Ma se ci sono due camere, come si dividono tra loro i compiti da svolgere? L'Italia è l'unico paese al mondo a prevedere un bicameralismo perfetto o paritario. Ciò significa che le due camere hanno esattamente gli stessi poteri. Tutte le decisioni devono essere prese insieme da Camera e Senato. In tutte le altre democrazie vige invece il bicameralismo imperfetto, ossia le due camere hanno poteri differenziati. La Camera Bassa è quella che ha il potere più ampio, mentre quella alta ha solamente funzioni minori. Per esempio, soltanto la Camera Bassa, tramite la fiducia, può decidere della vita e della morte del governo. Tagliatele la testa! Inoltre, spesso la Camera Alta non ha influenza sul processo di formazione delle leggi, se non con dei pareri o con la possibilità, in certi casi, di chiedere un riesame delle decisioni prese dalla Camera Bassa. Allo stesso modo, la Camera Alta può essere dotata di poteri di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali o gli Stati federati, in modo da garantire l'equilibrio tra gli organi centrali e quelli periferici. Ma il modello bicamerale non è l'unico esistente. È vero, è quello adottato dalle democrazie più popolose, ma la maggior parte dei parlamenti al mondo è monocamerale. Una sola Camera detiene tutti i poteri. Anche in Europa, alcuni paesi come la Grecia, il Portogallo e la Danimarca hanno scelto questo sistema. Un pregio del monocameralismo è quello di rispecchiare il principio affermato con la rivoluzione francese dell'indivisibilità della sovranità popolare. Inoltre, una sola Camera permette di ridurre i costi della politica. Tra le ragioni invece che giustificano il bicameralismo, vi è quella di evitare di concentrare troppo potere in un solo organo collegiale, creandone un altro che gli faccia da contrappeso. Inoltre, l'esame da parte di due Camere garantisce alle leggi una maggiore ponderazione, che dovrebbe assicurare una qualità legislativa più alta. Ma questo meccanismo rischia di rendere più lento l'iter legislativo, o di creare dei gironi danteschi, come succede in Italia con la cosiddetta navetta. La navetta è il procedimento che costringe un progetto di legge a fare avanti e indietro tra Camera e Senato finché non viene approvato nello stesso identico testo. Ci vediamo alla prossima. Avete le idee? Grazie a tutti.